Benvenuti, oggi parliamo di libri e lo facciamo con un autore fanese, si chiama Simone Venturini, benvenuto a Fano TV. Simone Venturini è nato a Fano nel 66, vent'anni più tardi dopo la maturità magistrale, decide di iscriversi al corso accademico di teologia presso l'istituto teologico marchigiano che all'epoca era a Fano, aveva la sua sede qui in città. Nel 1990 prosegue gli studi all'istituto biblico di Roma dove consegue la laurea e il dottorato in studi biblici. Dal 2005 fino al 2018 è stato professore di scienze bibliche alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Poi nel 2000 approda in Vaticano grazie al rettore dell'Università Lateranense che gli propone di ricoprire il ruolo di direttore della biblioteca affidandogli anche un insegnamento di teologia biblica. Dal 2004 è ricercatore in Vaticano, sposato con Letizia, ha due figli, attualmente viva Roma e di tanto in tanto torna nella sua amata città natale ovvero Fano ed è per questo che lo abbiamo qui con noi nei nostri studi. Allora noi siamo qui anche per parlare di un libro che uscirà in questi giorni, la sua ultima fatica che è un libro che si intitola La fonte della vita, l'eterno nascosto nell'anima. Un titolo bello ma di che cosa parla? Parla esattamente di quello che parla il titolo, cioè il fatto che noi cerchiamo Dio e questo nei miei ultimi libri cerco di sottolinearlo, cerchiamo Dio fuori di noi e ovviamente Dio è fuori di noi perché è un essere, una persona anche per chi crede. Però dimentichiamo un'altra cosa molto importante che per cercare Dio fuori, cioè per cercare anche di capire chi è, dobbiamo anzitutto sapere cos'è e per questo cos'è lo troviamo dentro di noi, nell'anima. Ecco il senso di questo titolo, l'eterno che è una dimensione ma anche un essere per noi, cioè Dio, nascosto nell'anima e dunque questo nascondimento rivela che bisogna fare un cammino per scoprire questa cosa che è nascosta dentro di noi, cioè l'eterno e cioè la fonte della vita che è ancora qualcos'altro rispetto a questo eterno, si nutre dell'eterno ma è anche qualcos'altro. Non è un libro rivolto soltanto ai credenti? No, è un libro rivolto a tutti quelli che vogliono cercare dentro di sé Dio e la pace, vogliono cercare dentro di sé quella dimensione che è in vano, quella casa che è in vano, cercano fuori dove trovare finalmente la pace e la sicurezza. Ecco insieme all'editore avete pensato e realizzato questa copertina che prego la regia di far vedere. Praticamente si riferisce ad un giovane che è giunto come vedete ad un bivio importante evidentemente della sua vita e che è indeciso e che adesso deve decidere anzi quale strada prendere. Ecco in certe situazioni quando il trauma di rompe insieme all'angoscia bisogna decidersi. Ecco sì, questo bivio rappresenta proprio la situazione che noi viviamo non solo in certi momenti ma anche normalmente ogni giorno perché qualsiasi momento della nostra vita rappresenta una scelta. Ovviamente ci sono dei periodi in cui avviene qualcosa di veramente traumatico tipo una malattia, tipo qualcosa di brutto tra virgolette che accade e che ci obbliga a scegliere una strada piuttosto che un'altra. E questa strada piuttosto che un'altra non si riferisce solo alla soluzione concreta che uno sceglie che è ugualmente molto importante ma soprattutto a ciò che questa soluzione concreta significa e dove questa soluzione concreta porta. Perché a prescindere da quello che uno fa prendere una strada o prendere un'altra porta in un posto piuttosto che un'altra e quindi quella casa che si intravede dietro questa foschia perché noi guardiamo la realtà in modo sfocato con i nostri occhi, al di là di essa e questa sfocatura rappresenta un po' l'anima, c'è però un paesaggio dove noi possiamo rifugiarci ed ecco quella casa. Quella casa rappresenta questo rifugio interiore dove possiamo e anche dovremmo rifugiarci per cercare questa pace, per trovare quella pace di fondo. Lì sta l'eterno? Lì sta anche lì, si manifesta anche attraverso queste immagini che noi troviamo dentro di noi però bisogna fare un altro cammino, un altro tratto di cammino che conduce pian piano verso l'alto ed ecco questo torrente che sfocia dalla cima del monte e questo ovviamente sarebbe un po' il traguardo finale. C'è il rischio che una di queste strade non porti alla casa del padre? C'è questo rischio ovviamente, questo è il rischio della vita e non dipende questa scelta dal fato o da Dio che ci dice, che ci obbliga a fare una scelta piuttosto che un'altra, ma siamo noi stessi che in certi momenti crediamo o pensiamo di fare il meglio per noi, ma questo meglio per noi da dove viene? Da una decisione nostra o dal fatto che seguiamo il consenso, gli schemi comuni, il nostro modo di pensare, il pensare della gente? Queste sono domande importanti perché appunto, come diceva lei, il fatto di scegliere una strada piuttosto che un'altra ha delle conseguenze piuttosto che altre. Questo libro può essere considerato una sorta di guida per la ricerca interiore di se stessi? È proprio questo il mio scopo, è proprio questo il mio intento, cioè di guidare le persone alla ricerca di Dio dentro se stessi, facendo però capire che questa ricerca non è mai conclusa. Sì, io do una meta, però questa meta non si raggiunge in un giorno e non è detta che si raggiunga, perché questa meta è molto alta e potremmo raggiungerla tutti, però dipende un po' da quello che scegliamo. E questa guida è anche una provocazione ad andare oltre quello che vediamo, ecco la sfocatura, di non accontentarci dell'orticello dove stiamo ogni giorno, ma di superare costantemente i confini di quello che sappiamo, i confini di quello che siamo. Ecco il senso vero della trasgressione. Questa può essere anche una guida che può in qualche modo aiutare ad eliminare quelle barriere, a superare quelle censure che anche noi stessi spesso ci poniamo, pregiudizi, giudizi, eccetera, eccetera. Certamente, sono tutti i pregiudizi, giudizi che non vengono dall'anima, che non vengono dalla parte più bella di quello che noi siamo e che si manifesta attraverso il nostro corpo, ma vengono da questo costrutto sociale, questa invenzione sociale, che è anche positiva, però è in certi sensi anche pesante, che si chiama io. Cioè tutto questo insieme di, appunto, come diceva lei, giudizi, schemi, censure, che ci pongono in una situazione di, tra virgolette, tranquillità, ma che ci impediscono però di vivere veramente e di scoprire sul serio chi siamo e da dove veniamo. L'uomo ha dei limiti, chiaramente, oltre i quali non riesce ad andare. Riusciremo attraverso questa lettura a superare questi limiti, oppure? Ci sono dei limiti invalicabili e questa la sapienza, perché il traguardo è acquisire la saggezza, la sapienza, che chi vuole intraprendere questo viaggio deve conoscere, perché l'uomo moderno, l'uomo filosofico, l'uomo tecnologico, invece non si pone dei limiti. C'è un traguardo che viene superato costantemente senza limiti. Ciò non favorisce il clima di ricerca autentica, perché l'essere umano ha dei limiti e a partire proprio da questi limiti invalicabili che può capire qual è il senso della sua ricerca e fin dove può arrivare la sua ricerca, anche perché non siamo eterni. L'eterno è nascosto dentro di noi, ma noi come esseri umani non siamo eterni. Questo è il libro che Simone Venturini ha scritto e che potete trovare in tutte le librerie italiane. Ovviamente è disponibile anche negli store, quindi si può anche prenotare, si può acquistare anche attraverso la rete, attraverso internet. Grazie, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro e grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.